Musica Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, ben ritrovati all'appuntamento con gli speciali del TG. Siamo ad una settimana esatta dal presunto caso, poi anche parzialmente sgonfiato, del rischio che è stato paventato da un'inchiesta di Milena Gabanelli sulla qualità della diagnosi per quanto riguarda il tumore al seno a causa di mammografi vetusti in tre ospedali della regione. C'è stata subito la replica dell'assessore Riccardi che ha confermato che due di questi ospedali, Tolmedio e San Daniele, sono stati già sistemati, un terzo macchinario di ultima generazione digitale in fase di installazione presso l'azienda sanitaria che coinvolge gli ospedali di Latisana e Palmanova. Dunque bisogna capire a questo punto tra l'inchiesta della Gabanelli e le dichiarazioni della regione dell'assessore Riccardi cosa c'è in mezzo e quindi provare a fare un po' di chiarezza in questo campo che naturalmente va a toccare la sensibilità dei cittadini. Quindi qua non si vada di salute, è sempre così. Lo facciamo come sempre con l'aiuto di ospiti. Questa sera in studio con me c'è la dottoressa Nicoletta Martini, radiologa del servizio di senologia del Polichinico Città di Udine. Buonasera dottoressa. E abbiamo in collegamento da Aviano il professor Umberto Tirelli. Buonasera professore. Buonasera. Allora io vengo subito da lei per una domanda di apertura sul caso sollevato dalla Gabanelli. Che cosa pensa di quello che si è scritto, si è letto come lo stato dell'arte e della tecnologia nella nostra regione per quanto riguarda la diagnosi dei tumori? Ma noi in Friuli Venezia Giulia siamo all'avanguardia come un po' tutto il nord del paese a riguardo della tecnologia a disposizione degli ospedali pubblici e anche in molti ospedali privati. Per cui credo che il livello di tecnologia non solo nel problema della mammella ma in tutti gli altri ambiti siamo ben messi e certamente è un problema che va avanti perché la tecnologia evolve rapidamente, le macchine diventano vecchie, si rompono. Bisogna trovare sempre, poi ci sono delle novità per esempio della mammografia, la dottoressa ne parlerà sicuramente, ma ci sono appunto dall'analogico, il digitale, la tomosintesi, ci sono tutti sviluppi che chiaramente noi dobbiamo starci dietro come si dice, ma è costoso anche questo. Oltre che ovviamente è molto vantaggioso per i pazienti perché ovviamente ci sono dei vantaggi nell'ambito di tutti i tumori con la tecnologia migliore. Anche se dobbiamo sempre ricordare che accanto alla tecnologia c'è bisogno del materiale umano, diciamo, tra i medici, gli infermieri, i tecnici e tutto il personale sanitario che deve essere molto sviluppato anche nelle conoscenze e applicare al meglio queste tecnologie che ci vengono messe a disposizione. Allora proprio su questo vorrei far intervenire subito la dottoressa Martini perché nonostante sia molto giovane la tecnologia si è sviluppata in maniera molto rapida, dunque lei ha avuto a che fare sia con strumentazioni analogiche che strumentazioni digitali. Allora c'è davvero tutta questa differenza tra una diagnosi effettuata con un mammografo analogico ed uno digitale? Cominciamo a rassicurare se è il caso le pazienti che hanno avuto a che fare con diagnosi con macchinari non di ultimissima generazione possono stare tranquille? Assolutamente. Io vorrei scindere questo discorso su due fronti. Uno è quello della tecnologia, quindi del macchinario, uno è quello umano. Ovvero, quando noi abbiamo vissuto questa transizione tra analogico e digitale, venivamo dal mondo analogico, eravamo allenati alla lettura delle mammografie analogiche. Quando abbiamo fatto i primi studi di lettura delle stesse mammografie in analogico e in digitale, la nostra performance tendeva a essere migliore col mammografo analogico. Un po' per un fatto di abitudine, un po' perché i primi mammografi digitali non riuscivano a competere alla pari con la risoluzione spaziale dei mammografi analogici. Quindi, paradossalmente, i primi digitali avevano un campo di azione, diciamo così, minore, meno qualitativo degli ultimi analogici che avete avuto a disposizione. La mammografia digitale ha sostituito la mammografia analogica secondo degli studi che stabilivano la non inferiorità delle performance delle mammografie digitali rispetto alle analogiche. Quindi non la superiorità netta, ma una non inferiorità. Quindi devono essere almeno pari. Questo è stato. Poi il digitale ha sicuramente dei vantaggi intrinseci all'essere digitale, quali la conservazione, la trasmissione e l'elaborazione delle immagini. Non ultimo il fattore dosimetrico, perché la curva dosimetrica, quindi la quantità di dose che noi... C'è le radiazioni che un paziente assorbe. Esatto, la dose di radiazioni che la paziente riceve da una mammografia digitale era inferiore rispetto a una mammografia analogica. Tutti questi fattori hanno contribuito alla transizione verso il digitale. Chiaramente nel corso degli anni la tecnologia è andata ulteriormente avanti, quindi i digitali di oggi sono senz'altro ottimi, sono assolutamente utilissimi. Ciò non toglie che mammografie eseguite con mammografi analogici che non siano vetusti, e per vetusti intendo di parecchi decenni fa, mammografi analogici... 50 anni fa per intenderci. Ecco, ultimi mammografi analogici sono perfettamente adatti comunque per una diagnosi precoce. Il fattore umano è altrettanto importante, perché come spesso ricordo alle pazienti che mi pongono questi quesiti, se a me date la Ferrari di Schumacher, io il Gran Premio non lo vinco, quindi conta... Serve il pilota formato, per bene, non diciamo più bravo perché siete tutti bravi, però deve essere il medico formato. Allo stesso modo funziona per la diagnosi precoce di tumore al seno. Ci vogliono radiologi che abbiano un'expertise, quindi una certa capacità diagnostica per la mammografia. Dopo parliamo anche di questo, perché poi spesso il paziente che si avvicina, la paziente in questo caso che si avvicina alla diagnostica, magari per la prima volta perché ha superato i 50 anni, in regione c'è questo screening gratuito, ma a prescindere con tutti i consigli che arrivano un po' da tutte le parti, bisogna controllarsi con regolarità. Dopo i 50 anni una donna decide, voglio fare una mammografia, va a controllare le liste d'attesa e trova in certi casi delle liste assurde. Spieghiamo poi anche questo, tra poco spiegheremo anche questo, se davvero la lista va letta in maniera negativa quando è alta, oppure se si può anche trovare qualcosa di positivo in questi numeri che andiamo a leggere. Andrei un attimo dal professor Tirelli. Professore, noi abbiamo visto che in regione abbiamo a disposizione un ultimo report epidemiologico della regione che riferisce al periodo 2012-2015, un report che è stato stilato nel 2018. Per alcuni tumori la nostra regione ha un dato di mortalità leggermente più alto rispetto alla media italiana. Questo è un dato che secondo te come va letto? No, va letto che chiaramente da noi si vive molto di più, infatti i dati sull'aspettanza di vita in Friuli Venezia Giulia, la seconda in Italia dopo il Trentino. Quindi abbiamo una popolazione anziana e quindi nella popolazione anziana è più facile che vengono dei tumori che poi dopo casomai vengono guariti, perché non vuol dire, bisogna ricordare bene sempre questa cosa, l'incidenza dei tumori non equivale alla mortalità come molti pensano. Cioè molti tumori incidono tanto ma si guariscono bene, quindi non c'è un impatto sulla mortalità. Come d'altra parte questo numero che ho detto prima, siamo secondi come aspettanza di vita dopo il Trentino in Italia, abbiamo forse la più alta incidenza dei tumori perché abbiamo una popolazione anziana. Comunque, quindi questa è la spiegazione perché c'è questa differenza. È importante dare questa spiegazione perché altrimenti su certi numeri la gente magari si terrorizza e dunque è giusto dire, è chiaro, c'è un'incidenza più alta perché si vive di più e quindi più avanti si va con l'età, più si risponde meno alle terapie. Poi ci sono anche, chiaramente, ci sono anche degli stili di vita che vanno tenuti in considerazione ovviamente in Friuli, sappiamo che l'utilizzo degli alcolici è forse più alto di tante altre regioni, si fuma di più e quant'altro, ma comunque quel dato di prima è molto importante nel presente. Ma volevo arricanciarmi un po' all'ultima parte del precedente intervento sul discorso delle attese delle mammografie, va tenuto presente che molti di coloro che protestano per l'attese di un anno, per esempio, di sei mesi, sono le mammografie di soggetti che devono fare i controlli periodici, non sono quelli che hanno un nodulo. Se uno ha un nodulo alla mammella, il suo medico l'ha riscontrato, il paziente se lo riscontra, non è che aspetta due anni o un anno, possono aspettare sei mesi, dodici mesi, coloro che fanno periodicamente dei controlli in assenza di tumori o di lesioni che sono evidenti, quindi bisogna stare sempre molto attenti, quelli che protestano perché hanno telefonato e gli hanno dato un appuntamento fra sei mesi e dodici mesi, gli hanno dato l'appuntamento perché non hanno un'emergenza, non è un'urgenza, e invece quelli altri che hanno un nodulo, ovviamente quelli devono essere fatti subito. Possiamo fare subito la prova, professore, la facciamo subito, siamo sul sistema della regione, abbiamo la priorità P, che è quella della prevenzione in pratica, che dunque non vede un caso conclamato di malattie in corso, ma è quella della prevenzione, priorità P per quanto riguarda la mammografia bilaterale, andiamo sugli ospedali che riportano delle liste attese più alte, il Cro di Aviano, per esempio, in questo momento dà 757 giorni di attesa per una mammografia con priorità P, che è la più bassa, quindi attenzione, noi stiamo parlando in questa trasmissione di prevenzione, e poi è chiaro, quando subentra un problema e bisogna andare subito ad intervenire, il numero dei giorni di attesa chiaramente diminuisce. Andiamo alla priorità B, che andando per esclusione ovviamente è quella più elevata, andiamo a vedere lo stesso Cro di Aviano, che cosa ci dice, nove giorni, dunque, quindi correttamente lei ha fatto la precisazione e abbiamo dimostrato attraverso il sito della regione che è proprio così. Quando si parla di prevenzione i tempi sono ovviamente più lunghi, ma si interviene subito quando è necessario. Esatto, e quindi bisogna stare attenti anche di questi report del Gabanelli e colleghi, che alle volte ci sono delle imprecisioni, non indifferenti. Per esempio, dice esattamente, su oltre 37 mila donne operate con interventi conservativi l'anno, in media 2.800 devono tornare in sala operatoria entro 4 mesi perché il tumore non è stato asportato radicalmente. Questo non è sempre così, succede che dall'esame istologico del nodulo asportato emerge che ci potrebbe essere un residuo di malattia e allora si deve fare un altro intervento. Ma questo è un po', chiaramente è molto meglio aver fatto una mammografia molto sofisticata, tipo digitale, otomosintese, eccetera, ma però può succedere benissimo in tutte le situazioni, cioè si decide poi di procedere a allargare diciamo il campo operatorio rispetto a aver fatto invece un trattamento molto conservativo anche per una questione estetica, perché la paziente giustamente vuole un intervento che non sia così troppo radicale, se no allora si toglie la mammella e è finito, torniamo in tempi passati. E quindi non sempre è dovuto al macchinario sbagliato, è dovuto alla malattia che casomai è diversa da caso a caso. Allora, dottoressa Martini, abbiamo visto queste liste di attesa per quanto riguarda la prevenzione. Un attimo sulla prevenzione, diciamo questo, è compatibile per esempio un'attesa di 750 giorni, quindi più di due anni, con una prevenzione in una donna che non ha alcun problema. Qual è il tempo che deve passare tra un controllo e l'altro dopo i 50 anni che è l'età oltre la quale poi viene suggerito alle donne di controllarsi? Lo screening mammografico prevede una mammografia di routine ogni 1-2 anni. C'è un grande dibattito comunque ancora in corso in ambito nazionale su quale sia l'intervallo corretto, soprattutto sull'utilità di personalizzare l'intervallo di screening sulla base del tipo di seno della signora e dei suoi fattori di rischio. Tra i fattori di rischio c'è anche l'ereditarietà? C'è anche quello. In primis la densità mammografica, quindi quanta banalmente quantità di ghiandola c'è nella mia mammella e ulteriori fattori di rischio, fra cui la familiarità o precedenti biopsie con alterazioni cellulari riscontrate o altri. E anche l'eventuale introduzione dell'ecografia nelle procedure di screening, garantito dalla ragione o dal sistema sanitario nazionale. Come secondo strumento in caso di sospetto. Sono tutti punti, le liste d'attesa, l'implementazione delle procedure di screening, sono tutti punti all'ordine del giorno nella comunità scientifica proprio per migliorare per le donne il servizio di screening. Riguardo le liste d'attesa, dove troviamo 1-2 giorni per quella della prevenzione? Possiamo anche immaginare che siano anche delle aziende sanitarie, degli ospedali dove ci sono pochi casi trattati, perché è chiaro, più grande l'azienda sanitaria, più pazienti confluiscono in quell'ospedale, in quel centro. Allora, è sempre corretto rivolgersi in un centro dove si fanno, che so, 10 mammografie all'anno, all'anno no, ma al mese diciamo, se ne fanno 10 al mese, dunque la casistica è bassa, oppure forse va fatta una media per cui il rapporto corretto è quello dove se ne fanno tante e si aspetta il meno possibile, ma considerando il tempo accettabile. Come dicevo prima, sicuramente l'expertise del radiologo, quindi quante mammografie è allenato a valutare nel corso dell'anno, sicuramente è un fattore cruciale. C'è da dire che in Friuli le mie colleghe che si occupano di diagnosi precoce di tumore al seno, gran parte di esse, come me e come la mia collega, la dottoressa Borghese, lavoriamo insieme nel servizio di senologia del Policlinico da 10 anni, siamo tutte formate alla scuola del professor Bazzocchi e della professoressa Zuiani, riconosciuta in ambito nazionale come una delle migliori d'Italia. Quindi alla fine resta il fattore umano decisivo sull'individuazione delle lesioni tumorali in maniera precoce, il più precoce possibile. La tecnologia ci aiuta, questa è fuori discussione. Ma è il radiologo che fa la diagnosi e non il mammografo, chiaramente, e non lo strumento. Professor Tirelli, per quanto riguarda gli sviluppi della tecnologia, dove secondo lei è più decisiva la tecnologia? Nella fase della diagnosi o della cura dei tumori? Perché poi interviene anche quando c'è da curare, con radioterapia oppure con altri tipi di terapia. La tecnologia dove è più decisiva nel combattere il tumore e dove sarebbe più importante spingere in tal senso? La tecnologia, abbiamo già detto all'inizio, è molto importante perché ci permette di avere delle risposte immediate a dei dubbi o a una valutazione se è un tumore operabile perché è localizzato, invece è già disseminato purtroppo. Quindi avere una PET, per esempio, anche con un diverso tracciante, per esempio con l'F-colina per i tumori della prostata, piuttosto che l'F-DG per altri tumori, è molto importante averlo in un tempo ragionevolissimo per poter poi procedere a decidere che tipo di terapia fare, che è sostanzialmente una decisione tra un trattamento locale, che potrebbe essere chirurgico o radiante, o invece sistemico, come si dice, cioè che va dappertutto con trattamento che sia chemioterapico, ormonale, immunoterapico o quant'altro, insomma tutti i trattamenti che vanno, quindi questo è molto importante. Poi ci sono altre metodiche, adesso per esempio per l'ambito terapeutico, il robot per esempio, nei tumori della prostata, sembra che sia qualcosa di veramente importante, molti chirurghi lo considerano molto migliore rispetto all'occhio umano, cioè il robot che ti vede molto meglio e ti permette di fare dei trattamenti meno invasivi, soprattutto a livello della prostata, dove ci sono delle implicazioni importanti per quanto riguarda gli effetti collaterali anche a lungo termine, l'impotenza per esempio, l'incontinenza e quant'altro. Quindi, però, sono importanti anche altri fattori che emergono negli ultimi tempi, per esempio sono i test genetici, cioè anche nei tumori della mammella, per esempio, il fatto che ci sia una familiarità, cosiddetto BRCA1 e BRCA2, sapere se sono, perché ho avuto la mamma, la zia o comunque a prescindere, perché adesso non ci sono più le famiglie di una volta, dove era facile vedere se c'era un'incidenza di un tumore, per esempio della mammella dell'ovaio più alto rispetto a quello che ti sarebbe aspettato, adesso ci sono delle famiglie molto più piccole, quindi comunque c'è chi propone, anche soprattutto negli Stati Uniti, di fare dei test genetici, per esempio BRCA1 e BRCA2, per capire se uno è a rischio di sviluppare un tumore della mammella e quindi fare delle procedure di screening, di diagnosi precoce molto più intense rispetto a una popolazione normale. Spesso purtroppo noi medici sbagliamo a non chiedere, a non sapere che, a non tenere in considerazione, lo sappiamo, ma almeno teniamo in considerazione al nostro paziente, cliente, diciamo, che ha avuto il papà con un tumore del colon, che è morto casomai, lui ha 40-50 anni e non pensiamo che dovrebbe fare, casomai un'aretto colonoscopia, perché ha una familiarità, diciamo, più elevata e questo non è un caso raro, è un caso molto frequente, tra l'altro c'è un incremento di tumori del colon nei giovani, colonoscopia, come anche, peraltro c'è anche nella mammella, anche nel polmone, per esempio, questo fatto che si pensi sempre ai tumori come la malattia dell'anziano, ai tumori più comuni, parla della mammella, del colon, ma così invece purtroppo succede anche che nei più giovani ci siano questi tumori, quindi pensare anche ai rischi genetici è un'altra cosa credo che sia molto importante, poi nell'ambito della terapia, chiaramente per esempio la protonterapia, questo trattamento che verrà messo a punto ad Aviano, ci dà la possibilità di fare dei trattamenti più intensi sul tumore, in tumori che sono localizzati anche in zone molto difficili, per esempio vicino all'occhio, vicino al midollo spinale, nel cervello, nei bambini, nei adolescenti che sono in crescita, è importantissimo avere dei trattamenti radianti che casomai possono sostituire la chirurgia, comunque aggregarsi anche alla chirurgia, ma che siano meno tossici, soprattutto sulla crescita, e quindi anche per esempio la protonterapia sarà un trattamento sicuramente molto utile che si aggancerà a quello che già abbiamo a disposizione, quindi la tecnologia va avanti molto velocemente. Bisogna stare ovviamente al passo con la tecnologia, io volevo chiedere alla dottoressa Martini in funzione della sua esperienza, anche per tranquillizzare appunto come abbiamo detto, questa è una trasmissione che vuole tranquillizzare chi si è spaventato dopo l'inchiesta della Gabbanelli e non è stato rassicurato e non si sente rassicurato al 100% poi dalle interviste che sono state rilasciate dopo, dai comunicati, delle aziende sanitarie, dei politici, l'assessore regionale e chi più ne ha più ne metta. Deve preoccuparsi chi ha fatto una mammografia un mese fa alla Tisana Palmanova? Può continuare in questa fase di ammodernamento di quell'ospedale, di quei macchinari a rivolgersi a quell'azienda sanitaria, una donna per fare una mammografia? Può essere tranquilla? Certo, assolutamente. Perché è il fattore umano, come diciamo prima, che fa la differenza. Soprattutto quello conta. Professore, lei prima, abbiamo parlato al microfono spento, è arrivata oggi l'assignazione del premio Nobel per la medicina e ci sono degli scienziati che sono stati insegnati di questo importantissimo riconoscimento che vanno proprio in direzione di nuove frontiere della ricerca per quanto riguarda i tumori che vanno in una direzione che si sta iniziando ad esplorare adesso. Sappiamo da molto tempo che l'ossigeno è essenziale nell'ambito dell'oncologia, nell'ambito della ricerca e anche delle terapie e quindi questi scienziati hanno studiato che la mancanza di ossigeno provoca delle probabilità maggiori di avere delle malattie, comprese anche i tumori e quindi poi non solo nei tumori, c'entra questo discorso, c'entra anche nell'anemia, ma in varie forme di stanchezza. E qui proprio nel mio, fuori dall'istituto di Aviano, ma qui alla Tirelli Medical Group, qui a Pordenone, stiamo studiando proprio l'ossigeno-zonoterapia in varie forme di patologie, che sono la sindrome da fatica cronica, la fibromialgia, ma anche nell'ambito del supporto ai pazienti con tumore che sono affaticati, che hanno una fatigue cosiddetta, che è una patologia molto severa nell'ambito dei tumori, che è dovuta anche a una carenza di ossigeno e che quindi noi dando l'ossigeno insieme all'ozono ai pazienti abbiamo dei benefici notevoli, sia per superare i problemi correlati con i trattamenti oncologici che spesso danno stanchezza, oppure anche nei pazienti avanzati che hanno problemi di fatica, perché il tumore è disseminato e quindi sono molto stanchi e questo per una questione proprio di supporto. e quindi questo riconoscimento del nome della medicina va proprio in un ambito di studi che stiamo facendo anche noi, noi abbiamo pubblicato già diverse cose qui alla Trial Medical Group proprio a riguardo dell'ozono-terapia, dell'ossigeno-ozono-terapia nel riguardo di varie malattie che dicevo anche prima, ma con grandi risultati. Dottoressa, per arrivare alla chiusura di questo nostro speciale, la domanda che ci siamo posti, c'è più che la domanda, il titolo che ho dato a questo speciale è lo stato dell'arte e quindi le chiedo com'è lo stato dell'arte nella nostra regione per quanto riguarda nel suo caso il tumore della mammella e quindi come siamo messi in Friuli Venezia Giulia quanto a tecnologie ma anche a conoscenze di medici e un po' tutto insomma e se c'è qualcosa che non va secondo lei dove bisognerebbe eventualmente intervenire? Ma come dicevo prima sicuramente la nostra regione è virtuosa in questo senso sia come tecnologie perché comunque chi non è ancora diciamo così all'avanguardia lo sarà presto perché c'è tutta l'attenzione del sistema sanitario regionale a garantire un avanzamento tecnologico adeguato e un'omogeneità sul territorio come parco radiologi, chiamiamolo così, ho già detto prima che sicuramente penso di poter dire che l'esperienza ci sia e in ogni caso quello che è sempre tutto migliorabile quello che secondo me è migliorabile appunto come già accennavo il poter stabilire dei percorsi il più possibile ritagliati sulla paziente sulla singola paziente personalizzarli il più possibile Quindi screening va bene, generalizzati però provare un po' a cucire il vestito su misura addosso alla paziente Esattamente, un altro punto forte secondo me della nostra regione agevolati anche dalle dimensioni contenute del territorio è l'interdisciplinarietà lo scambio fra i professionisti Noi come radiologi abbiamo rapporti con tutte le radiologie praticamente della regione ci confrontiamo e questo è sicuramente un segnale positivo perché fa capire come tutti quanti noi abbiamo bisogno e voglia di confrontarci e questo ci aiuta senz'altro a migliorare le nostre performance ma non solo tra radiologi, anche con i chirurghi, gli oncologi, i radioterapisti tutti gli attori in causa che sono coinvolti nella diagnosi precoce nella terapia del tumore al seno quindi questo secondo me è veramente il valore aggiunto perché fa sì che la paziente venga presa in carico dall'inizio alla fine del suo percorso e le venga garantita tutta la massima assistenza possibile Da A alla Z come si suol dire Professor Tirelli al CRO naturalmente questa multidisciplinarità e trova la sua cura naturale perché dal punto di vista oncologico lì c'è tutto naturalmente Lo stato dell'arte nella nostra regione vengo anche a lei con questa domanda dal punto di vista della diagnosi e della cura com'è? Beh appunto la multidisciplinarità è la base un po' dell'oncologia sempre di più i gruppi che sono prevedaliano sono numerosi sono nei vari tumori del colon, della mammella, della prostata, dei linfomi quindi c'è tutto un discorso che tra l'altro incide anche sul aspetto dell'immunoterapia e sui trapianti di midollo in varie patologie appunto mette insieme le esperienze dei vari specialisti si hanno dei protocolli sia dei trattamenti convenzionali ma anche dei protocolli di ricerca con nuovi trattamenti soprattutto terapie biologiche ed immunologiche che appunto devono essere concordate a livello di gruppo multidisciplinare ma che questo è a tutto beneficio del paziente teniamo conto che in Italia ci sono oggi 3 milioni e mezzo di persone che vivono con tumore non è una cifra piccola nella nostra regione ho fatto dei calchi che saranno circa 70.000 che vivono con una diagnosi di tumore di questi 3 milioni e mezzo ce ne sono quasi un milione che sono praticamente guariti dai loro tumori parla di tutti i tumori, della mammella, del polmone soprattutto del colon e quant'altro e che quindi richiedono anche tutta un'altra prospettiva di valutazione di queste persone perché anche queste hanno avuto un tumore ma purtroppo non si può escludere che ne abbiano un altro perché può capitare nella vita di fare collezione anche dei tumori ci sono anche dei casi così e comunque non è piacevole ma bisogna però stare attenti e pensare che abbiamo sempre più pazienti che possono vivere a lungo e che hanno caso mai degli effetti collaterali a lungo termine per esempio se uno ha avuto un tumore del colon una donna non è che per questo non debba fare i controlli è guarita, non è che deve fare i controlli della mammella non deve fare altro, forse di più e così vale per i linfomi, la mammella eccetera c'è tutto un discorso che i vari specialisti insieme quando si parlano e ovviamente noi ad Aviano ci parliamo molto perché è la nostra base di istituto è proprio questa multisperità e quindi si può arrivare a fare abbiamo anche appunto un ambulatorio per coloro che sono lungoviventi e guariti e o guariti dei loro tumori che appunto devono essere valutati per gli effetti collaterali eventuali che ci fossero e anche per ricordare che non bisogna fumare come abbiamo detto questa cosa perché è d'accordo la tecnologia ma è importante non fumare non bere in eccesso droghe anche è la stessa cosa dell'alcol e non stare sedentari non ingrassare fare attività fisica questo è molto importante forse è importante quanto la tecnologia non ci dimentichiamo quasi che ci fosse solo problema tecnologico problema anche di stile di vita di come dobbiamo comportarci per vivere più a lungo perché effettivamente oggi viviamo a lungo pensate che in Italia abbiamo oggi 15.000 ultracentenari e quindi peraltro hanno pochi tumori questi oltre dei cent'anni tra l'altro interessante anche questo aspetto ma comunque abbiamo 15.000 ultracentenari pensiamo che dopo l'ultima guerra ce ne sarebbe stato pochissimi si contavano sulle dita insomma della mano in ultracentenaria adesso ne sono 15.000 quindi questo è l'evoluzione ma non dobbiamo pensare di aver vinto alla battaglia contro il cancro perché è una battaglia molto difficile da vincere definitivamente ancora oggi purtroppo abbiamo tante sconfitte ma anche ci accontentiamo delle buone cose che si ottengono anche con la diagnosi precoce ovviamente oltre che le modifiche dello stile di vita grazie mille per la sua partecipazione e il suo intervento siamo arrivati a conclusione di questo nostro speciale e dunque anche dal professore arrivano comunque indicazioni positive positivo per quanto riguarda lo stato dell'arte poi c'è tutto il discorso del decorso delle malattie delle tante diagnosi ma qui è una battaglia che va condotta su più fronti noi per quanto possibile abbiamo cercato di tranquillizzare le persone che dopo l'inchiesta della Gabanelli ma anche dopo tanti altri adesso non vogliamo mettere sotto accusa la Gabanelli per carità perché fa delle inchieste assolutamente importanti sarà un altro perché pur creando a volte un allarme riescono anche a far riflettere su alcune cose dunque ci hanno permesso per esempio oggi di parlare di prevenzione ricordando che è il mese della prevenzione se vuol dare qualche piccolo consiglio alle donne che ci stanno ascoltando sul fronte della lotta al cancro della mammella per riprendere anche appunto un tema sollevato dalla Gabanelli sicuramente è cruciale la periodicità dei controlli quindi che le donne si sottopongano alle procedure di diagnosi precoce con l'intervallo suggerito dallo specialista questo è fondamentale per trovare lesioni di piccole dimensioni quindi assolutamente curabili e guaribili grazie alla dottoressa Nicoletta Martini radiologa del reparto di senologia del Polichinico Città di Udine abbiamo già ringraziato il professor Tirelli lo facciamo ancora una volta grazie professore e ringrazio tutti voi per averci seguito in questo speciale che abbiamo voluto dedicare ad uno degli argomenti più dibattuti nell'ultima settimana buon proseguimento con Udinesia TV e quindi la